Oggi siamo qui con Gianni Coppari, EU Ambassador per Philips Lightning. Oggi si parla tanto di Smart Lighting e Internet of Things. Quali sono le soluzioni oggi disponibili per l'efficienza energetica e per migliorare il benessere delle persone all'interno delle loro abitazioni? Oggi Philips Lighting porta sul mercato un prodotto molto innovativo perché parliamo di prodotto connesso. Parliamo di EU, nuova tecnologia che Philips ha messo sul mercato e ci consente di pilotare le nostre sorgenti, in questo caso lampadino, strisce led, poi le vedremo nel dettaglio nel corso di oggi. Ci consentono di pilotarlo con il nostro smartphone, quindi ma non solo, con il smartphone, con la voce, e ci consentono di ricreare ambientazioni ottimali per l'individuo. Vi lascio immaginare cosa significa oggi poter per ripercorrere il ciclo circadiano del sole con la luce delle lampadine. Oggi riusciamo, grazie ai nostri sorgenti, a pilotare in automatico, in completa autonomia, una tonalità di gradi Kelvin che vanno da 2200 fino a 6500 gradi Kelvin, quindi riusciamo a pilotare completamente, immaginiamo un'ambientazione priva di finestre, possiamo simulare la luce del sole e questo il corpo umano lo percepisce in modo veramente veramente positivo. Per non parlare poi di tutta la parte del colore, dove riusciamo a fare ambientazione veramente interessante, poi andremo a vedere. Benissimo, e quali sono le soluzioni che caratterizzano l'offerta di Philips in questo campo? Appunto abbiamo parlato di EU, EU non è solamente luce colorata o luce bianca, perché questa proposizione di luce connessa, e poi si fa anche un po' la vostra tematica, ci consente una tematica relativa anche alla sicurezza, quindi possiamo pilotare tutto da remoto, per esempio. Quindi diciamo una grande potenzialità, potenzialità in più aggiunta, arrivando sul mercato, nuovi partner come Google Home, Amazon Echo, che saranno il futuro all'avanguardia con cui noi collaboreremo. Quindi tutto comando vocale, quindi un passo in più rispetto al normale. E infine perché avete scelto di supportare il Team Sapienza in gara al Solar Decathlon Middle East? Posate appieno i nostri valori e le nostre tecnologie, quindi perché non supportare con la nostra tecnologia un sistema di ecosostenibilità, di risparmio energetico, di ambiente, quindi diciamo che nella parte lighting effettivamente riusciamo ad approcciarci veramente in modo interessante. Grazie. Grazie a lei.